Eccolo qua! E' brutto! Finalmente! Abbiamo aspettato tre settimane, più o meno, dal sostituto di Guribali ed eccolo qui! Finalmente! Finalmente! Abbiamo la foto! Appena ho visto la foto ho detto no, voglio ha già fatto video! Allora, l'aereo teoricamente è atterrato attorno alle 11 e mezza, mezzogiorno, adesso è l'una! Cioè, io ho detto no, mi è venuta una battuta su Twitter da Luca Cerchione, giornalista, gli ho detto Sien, ma è arrivato a Roma, è atterrato! Ma non c'è sta uno che ci ha fatto una foto! Uno! Capisco che Roma è piena di turisti, piena di asiatici, ma non penso che sia così difficile di beccare uno asiatico Chiamandola alto 1,90! E alla fine, un'ora dopo, eccolo qua la foto! Allora ragazzi, eccolo qua! Finalmente! Sembra! No! Togliamo il sembra! E' ufficiale! Chi minchia è? Ma Napoli, lo chiameremo chi cazzo è? E' del Napoli, sostituto di Koulibaly, 25 anni, che però a novembre ne fa 26, non è mancino, ma è destro, però gioca sia a destra che a sinistra, quindi è ambidestro Un punto abbastanza a favore per lui Wayu è alto 1,90, pesa 86 kg, fisicamente è una bestia, fisicamente dovrebbe regnare su tutti i duelli incredibili, eccezionali L'operazione, l'operazione, allora, 20 milioni di clausola, ok? E quindi, era la clausola, prima dicevano Nizza, Francia, poi chi diceva, no, in Napoli ci stai ripensando E poi dopo l'intervista di Daurentis, no, ma il governo coreano, Pirivicchio, Piriva, insomma, vari tiri e molla Durate tre settimane, alla fine nostra, comunque, 20 milioni in Napoli, lo ha pagato con la clausola 2,5 milioni di ingaggio per tre anni, nel contratto ci sarebbe anche un'opzione per i prossimi due anni Ok, e contratto fino al 2027, come ho detto, tre anni più opzione per altri due E poi clausola da 50 milioni valida al terzo anno, quindi non più 40-45 dal secondo anno, ma 50 milioni dal terzo Ok, questo è quello che ho letto da Luca Cerchione e io mi fido, è uno dei pochi giornalisti di cui io mi fido Allora, chi minchia è questo qua? Chi cazzo è? Allora, andiamo a vedere un po' di giocate Allora, andiamo a vedere, allora, fatemi selezionare che, voglio, sto facendo un press, un press Che tanto l'abbiamo partorito, cioè da stamattina Io mi sono svegliato, circa alle sette e mezza, dalle sette e mezza fino a quando è atterrato Twitter è esploso, cioè, piene di foto con l'aereo Ma io sto arrivando, ma io manco fossimo dei giuventini che aspettavano Pogba Che lo stavano stalkerando peggio di non so cosa, vabbè, lasciamo stare Comunque, andiamo a vedere le giocate di questo qui Allora, questi, vabbè, non faccio vedere tutti e quattro minuti perché sarebbe inutile Che tanto fanno vedere sempre le stesse cose Dunque, vediamo un attimo, qua vediamo fisicamente, è una bestia Allora, nell'uno contro uno sembra essere... allora, se viene accompagnato, come abbiamo visto Se viene accompagnato può essere veramente interessante Fa un mezzo dribbling incredibile Per essere 1,90 è anche discretamente veloce Infatti, si vede già dai video, guardate qua, guardate qua, bello, che stop Mamma mia, ma chi è questo? Non mostro Vabbè, allora, mo mi sto esaltando Cioè, probabilmente vi sto anche esaltando Però ragazzi, c'è una bella differenza tra Turchia e Serie A Mo non dico che in Turchia difendono in maniera diversa Mentre in Italia, secondo me, sono gli schemi L'impostazione, ok? Che cambia, c'è di diverso tra Turchia e Italia L'unica cosa che mi viene da dire Sono che 1,90 è abbastanza veloce Fisicamente è molto importante Nell'area piccola Nei duelli aerei Ha un'alta percentuale di duelli vinti Quindi fisicamente nei duelli è molto molto valido L'unica cosa che picca, probabilmente È dal punto di vista tecnico Ovvero nella costruzione da basso Però quella si può migliorare E anche quando è 1 contro 1 Aspettate, cambio Per farvi capire bene l'esempio mio Ok, allora L'1 contro 1 Kim, avversario veloce Mettiamo caso Chiesa Chiesa Sperando che recuperi prima o poi Kim, Chiesa Nell'1 contro 1 Chiesa Cioè si fa superare facilmente Perché il fisico non l'aiuta Ok? Però C'è da ricordare Per chi si ricorda gli inizi di Koulibaly Anche Koulibaly aveva questo difetto Nel frenare Nel non saper Anticipare Ok? Diciamo il giocatore che lo superava Ok? Quindi Secondo me c'è tempo C'è tempo da migliorare E probabilmente Ma Ma probabilmente Sicuramente Spalletti Lo migliorerà Lo aiuterà E E mi viene da dire Che questo Non dico che è un colpo Però voglio dire una cosa Qua io non ci permettiamo Non ci permettiamo Non ci azzardiamo Minimamente Che a ogni errore Diciamo Eh Se ci fosse stato Koulibaly Qua io Koulibaly è passato Kim e Ostigard sono il futuro Ok? Bene Ma chiunque Qualunque difensore In Napoli Avesse preso Tutti lo avrebbero paragonato A Koulibaly Basta Koulibaly è passato Grazie per gli 8-9 anni Che sei Che ha indossato La nostra maglia Però E' l'ora di Voltare pagina E il Napoli Se A parte il fatto che Il Napoli Dopo aver preso Il difensore Deve prendere Il portiere Fisso Base E poi Pensare all'eccessione Perché numericamente Il Napoli sta a posto Però voglio azzardarvi una cosa Ok? Se Il Napoli Riuscisse A prendere Un fantasista Uno Al posto Di Mertens Magari Raspadori E Simeone Al posto Di Petagna Un Ass O Petagna E Mertens Ok? Io mi Rimangio Le cose Che ho detto Io vedo Il Napoli Sesto E manda A fanculo La Negatività Perché io sto Vedendo Un Napoli Con un nuovo Ciclo Perché prima o poi I cicli Come dico sempre Iniziano E hanno una fine Prima o poi Tutti Dicono Addio Alle proprie maglie Ok? Alle maglie Alle squadre Ok? Quindi Un inizio Un nuovo ciclo Ci sta di tutto Non tutto In un unico In un unico blocco Però Alla fine Sono scelte Passate Sbagliate Scelte Dei giocatori Non siamo noi qui A giudicare Le scelte Degli altri Però Io sto vedendo Che il Napoli Ha tracciato Una squadra Una strada Della Cazzimma Osticard Della Cazzimma Kim Come abbiamo visto Tena Cazzimma Usa bene Il fisico Quava Seila Quava Seila Secondo me Diventa pure Più forte D'Insigne Oliveira Ovviamente Quara Divende pure Come si ambienta Nel calcio italiano Oliveira Un tira Ma indietro la gamba Insomma Un Napoli Meno qualitativo Però Più cazzimuso Cioè Il Napoli Ha fatto Un mercato Che voleva Spalletti Praticamente Prendendolo A parole A parola Nel senso Vuoi una squadra Fisica E il Napoli Ha fatto Un mercato Fisico Semplice Comunque Basta Negatività Adesso Aspettiamo L'evoluzione Del cacciomercato Di tutto In Napoli Aspettiamo Questo Benedetto Portiere Aspettiamo Le cessioni Benvenuto A Kim Minchia E Kim Minchia E Vabbè Lo chiamiamo tutti Kim Perché Kim Minchia E A Napoli Chiamam Chi Cazze Iniziamo Subito Una cosa Incredibile Vabbè Forza Napoli Sempre Ci vediamo Domani Live Stasera No Perché Ho ospiti Quindi Mangio la pizza Comunque Buona giornata Forza Napoli Ancora Un benvenuto A chi Minchia Ma io Sto Napoli Più giorni Passano Più Mettenze Con le balenzine E gli altri Vanno nel dimenticatoio Più La mia fiducia Nei nuovi Cresce Ah domani C'è l'amichevole Ovviamente 10 euro L'amichevole Ma io Forza Napoli Buona giornata Ciao a io Ciao a io